Con il ritorno alla primavera si può assistere anche nei centri abitati alla ricomparsa di fenomeni allergici ed episodi causati anche da comuni fattori ambientali in soggetti predisposti. Ieri, come capita dal 1998 su iniziativa della Global Initiative for Asma, il primo martedì del mese di maggio è stata celebrata la giornata mondiale dell'asma per far conoscere meglio questo disturbo e migliorarne le cure. La tematica proposta per il 2022 è stata quella che viene definita Closing Ups in Asma Care per cercare soluzioni a difficoltà specifiche nella gestione della patologia asmatica, nella sua diagnosi e nelle cure adeguate. Come testimonia la Simri, società italiana per malattie respiratorie infantili, l'asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica perché riguarda un bambino su 10 nei paesi occidentali, Italia inclusa, e provoca anche ripercussioni sulla spesa sanitaria sulle assenze di alunni da scuola e dei genitori dai posti di lavoro. Si spera che si riesca a formare una rete di collaborazione tra pazienti, strutture sanitarie e centri specializzati per poter riuscire a colmare lacune nella cura dell'asma e poter così aiutare ulteriormente il paziente, come è stato auspicato dalla Global Initiative for Asma. La Simri, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, SIP, Confederasma, federazione che raccoglie le associazioni ai pazienti asmatici. Con l'associazione Asma Allergia Bimbi ha coinvolto diversi centri sparsi in tutta Italia per l'organizzazione nel mese di maggio di sessioni di spirometria gratuita per i bambini, in occasione alle quali sarà illustrato come e quando si possa sospettare la comparsa dell'asma in un'indispensabile attività di prevenzione. Inoltre è stata realizzata una brochure scaricabile sul portale della Società Italiana per le Malattie e Respiratori Infantili che verrà distribuita nei vari centri Simri. Questi sono solo alcuni dei passi che vengono compiuti costantemente per migliorare la vita.